Ave qualcuno mi ha consigliato di fare un comparison d'orian contro ronny german grand prix 96 le foto sono prese da via delle routine quindi potete andare a vedere su youtube la qualità è quella che però facciamo quello che possiamo fare con quello che abbiamo a fronte al bicep secondo me questa è una posa in cui sono quasi pari dorian perché molto granitico posa meglio poi lo vedete anche nel video come posa meglio però questo bc vita strappato ronny braccia superiori rapporto vita spalle superiore genetica superiore però dorian è più definito più granitico polpacci superiori ronny non ha ancora avuto l'expload che avrebbe avuto di lì a due anni chiaramente 98 la sua prima vittoria vi rimando anche al video che avevo fatto che si chiama mi pare la trasformazione di ronny dal 97 98 una cosa del genere comunque a ronny manca un po di massa a dorian manca un po di estetica front l'asperd anche in questo caso più o meno stesso discorso è una posa fantastica per entrambi che sarebbe diventata disumana per ronny di lì a pochi anni stesso discorso dorian più granitico più definito posa meglio però ronny ha dalla parte sua la genetica anche a livello di pettorali densità muscolare superiore a livello di rotondità ed effetto 3d di pettorali e anche deltoidi e spanciamenti superiori anche nelle gambe però una posa molto molto vicina per entrambi a seconda di ciò che si vuole vedere grande separazione il grandentato di dorian non andrò troppo nel dettaglio in questa analisi perché è un po difficile con la definizione del video che è quella che però complessivamente do a dorian un po il vantaggio in molte pose per la definizione per la graniticità che si vede anche in questo side chest ronny una densità incredibile a livello di pettorali di braccia cioè se dobbiamo guardare solo l'aspetto genetico chiaramente diamo questa posa a ronny però dorian è più definito molto semplicemente quindi questa posa possiamo darla in in parità per questo motivo perché comunque c'è quella definizione in più quella graniticità in più che a dorian e che manca a ronny che chiaramente non è che sia soft non è che sia liscio e non definito però è un passo indietro però la densità del petto la posa in sé potremmo darla a ronny però purtroppo non si vedono le gambe perché in entrambe le routine quando fanno le side chest hanno zoomato quindi ci perdiamo un po le gambe ci perdiamo tutto quello che può essere la definizione separazione della parte bassa back double bicep non so perché ronny ha sempre avuto questo vizio se guardate molte sue routine mentre fa il back double bicep guarda da un lato non so per quale cazzo di motivo qui secondo me manca un po di massa a ronny la definizione è ottima nei glutei per quella di dorian è superiore se guardate a routine vedete quello che sto dicendo perché prima di fare la posa strizza bene il culo e si vede quel qualcosa che manca a ronny che comunque ha un ottimo back double bicep però è un po scarro non mettiamola così gli manca quella massa che avrebbe acquisito negli anni successivi quindi questa posa la dare a dorian perché davvero sembrava scolpito nella pietra per come a questi tagli nei trapezzi nei deltoidi nei dorsali in generale davvero una posa fantastica qui non si nota neanche troppo il fatto che abbia il bicipite strappato quello sinistro per la cronaca back l'asped più o meno stesso discorso per quanto riguarda la parte bassa ronny ha uno spacciamento superiore nei quadricipiti non so se sia solo una questione di come mette i piedi però permette degli spacciamenti superiori anche per genetica non mi piace particolarmente l'asped può essere che non l'avesse aperto ancora completamente però non è ancora ai livelli dell'asped che farà nel 99 per dire dorian meno denso meno tridimensionale però più definito leggermente asimmetrico secondo me nella parte sinistra rispetto alla destra potrebbe essere anche una questione della inquadratura però questa posa mi senti irritarla dorian per questi motivi cioè è più definito questo il motivo principale ronny sappiamo adesso come sarebbe diventato di lì a due anni ma all'epoca non lo sapevano non penso che attenzione in grande considerazione ronny ovviamente site rice questa è un ottima posa per entrambi ronny ha un ottimo petto un grande controllo addominale anche se ha meno addominale di dorian dove ha un six pack vero e proprio ronny a un tuo for pack gli mancano poi i tricipiti che sono il punto forte di questa posa di dorian ma secondo il punto forte dove in questa posa è anche l'esecuzione come la fa purtroppo non vediamo le gambe e poi anche la definizione anche del gran dentato guardate proprio come più granitico come ha la pelle proprio a carta velina sembra proprio bagnata e appoggiata sul muscolo qui si nota bene con questo zoom credo che questa sia una cosa definitiva nel dar questa vittoria a dorian però una buona posa anche per ronny nonostante non abbia dei tricipiti eccezionali ma lo sappiamo bene però il resto c'è mi piace molto questa sua posa questa è una specie di absentei nessuno dei due ha fatto un absentei dove viene inquadrato bene dorian l'ha fatta ronny no però questa è l'unica in cui fanno una posa più o meno simile che può definirsi un absentei che non è un absentei buona per entrambi la definizione del granitato di dorian è fantastica l'addome di dorian credo che sia superiore rispetto a ronny i polpacci ovviamente sono superiori do il vantaggio a ronny per quanto riguarda le gambe il rapporto vita spalle sicuramente molto più estetico dorian negli ultimi anni della sua carriera 96-97 ha iniziato usato anche un po l'insulina dice che gli aveva un po fatto andare lo stomaco in fuori non lo controlla più benissimo però magari nel 96 con il german grampino aveva ancora utilizzato non ho idea cosa dice lui secondo me se è vero quello che dice si vedono i risultati negativi solo nel 97 al mistero olimpia most muscular questa la dora ronny perché è più bella cioè si vedono i limiti di dorian nelle braccia soprattutto i bicipiti anche il destro che non è strappato non fa una bella figura il sinistro ancora meno ronny riempie meglio lo spazio in quella zona poi più rotondo proprio cioè questo è un effetto genetico hai una densità tridimensionale che non puoi ottenere con gli steroidi che che ne pensino i ritardati che credo anche basti dopparsi per essere un bodybuilder però non è così quindi questa posato convincentemente a ronny nel complesso darei più o meno tutte le pose a dorian per la definizione più che altro per la sicurezza del posing che ronny non ha non si vede in queste foto ma si vede nel video comunque un'ultima prestazione per ronny buona grazie a tutti grazie a tutti